Ciao a tutti ragazzi, belli brutti, belle brutte e bentornati in questo nuovissimo video sul canale Siamo tornati in un video informativo per quanto riguarda sempre iMyPhone Perché in questo video parleremo di un'offerta di, per così dire, degli sconti che MyPhone ha effettuato sui suoi prodotti Come vedete qua c'è un countdown perché questa offerta rimane per 13 giorni e parliamo subito di cosa si tratta Ma fermi, 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 prima di continuare la continuazione del nostro video voglio parlarvi di un sito Si tratta di uno store online che vende headphone, watches, cioè vende orologi, vende cuffie, vende dispositivi audio, droni, macchie telecomandate, storage device E spedisce in tutto il mondo con due tipi di spedizione che sono la spedizione standard e la linea prioritaria In Italia ci mette circa 20 giorni ad arrivare, 15-20 giorni a seconda della spedizione che scegliete Ragazzi partiamo subito a farvi vedere un po' di prodotti anche se li state vedendo in vetrina, eccoli, eccoli qui Intanto io voglio farvi vedere per prima cosa gli orologi, gli orologi sono veramente fantastici È un orologio che mi ha sorpreso, è questo qua Guardate che figata di orologi, io probabilmente lo acquisterò, è veramente veramente una figata Ovviamente la spedizione standard è gratis, ci mette 20 giorni ad arrivare, quella a pagamento costerà sui 3 euro Ovviamente potrete avere un vantaggio di 5-3 giorni su quella pagata, io vi consiglio quella standard Bene ragazzi, questo è il sito in sé, si tratta di uno store online come li vediamo oggigiorno Soltanto che questo ovviamente spedisce in Italia e potete trovare prodotti che non troverete su store come Amazon o Ebay Eccoci qui ritornati su iMyPhone Questa promozione terminerà il 2 gennaio del 2020, ovviamente dopo l'inizio del nuovo anno Quindi innanzitutto la prima chance che ci offre iMyPhone è quella di girare questa ruota qui Abbiamo 2 chance al giorno e possiamo tornare ogni giorno per la durata della campagna, della promozione per girare la ruota Quello che possiamo vincere è un coupon per comprare un prodotto iMyPhone, magari uno sconto O possiamo vincere direttamente il prodotto Possiamo vincere anche, come vedete nella ruota, un case per il nostro iPhone, per il nostro telefono O possiamo vincere direttamente il prodotto Ovviamente ragazzi io direi di provare a girare la ruota e vediamo che cosa possiamo vincere Ok, abbiamo vinto un prodotto che è iMyPhone U-MateMacCleaner Abbiamo vinto ovviamente un mese di licenza, quindi possiamo utilizzare questo prodotto gratis per un mese Io inserisco la mia email che è questa qui e tra poco mi invierà ovviamente il codice di registrazione Ora posso andare a girare un'altra volta perché ci sono 2 chance al giorno E ho vinto anche una case per il mio iPhone, quindi una cover Andiamo a scegliere la cover ovviamente Questa è praticamente la cover dell'iPhone, possiamo scegliere sia il colore, io lo scelgo nero Andiamo a scegliere anche il device, il mio è un bel iPhone X Scegliamo uno perché ovviamente ne abbiamo vinta uno Ok, come vedete il totale è praticamente di 0 dollari perché ce la regalano Quindi ragazzi avrete ovviamente una cover in omaggio che normalmente costerebbe sui 15 euro Ma dovete pagare la spedizione Quindi abbiamo vinto anche una cover e possiamo tornare, il bello che possiamo tornare ogni giorno a riprovare a vincere qualcos'altro Come vedete c'è anche un coupon di 10 dollari, di 5 dollari o tantissimi altri prodotti Ovviamente c'è anche la possibilità di vincere qualcosa di misterioso il 25 dicembre stesso Quindi cliccate su Notify Me e inserite la vostra email Scendiamo sotto perché ci sono altre offerte Ovvero iTransform4WhatsApp a 9 euro invece di 49 euro E potete comprarlo in questo momento iMyPhone è in recovery a 9 euro invece che 60 euro Poi c'è la possibilità di comprarne uno e vincere Ovvero avere altri 7 prodotti gratuiti Quindi in questo caso comprerete iMyPhoneChristmas181 bundle La possibilità di comprare uno di questi prodotti e di riceverne 7 gratuiti La possibilità per fare questo dovete ovviamente condividere iMyPhone il sito di iMyPhone o su Facebook o su Twitter o su Pinterest o su questo che non lo conosco Quindi voi comprate il prodotto e non sapete gli altri 7 prodotti che vi escono Ma sicuramente sono questi 7 prodotti che vi potrebbero uscire nel pacchetto che voi comprate Quindi ragazzi ricapitolando questa promozione dura in totale 13 giorni fino al 2 gennaio Avete la possibilità di girare la ruota circa 2 volte al giorno per 15 giorni Ovvero per la durata della promozione Potete vincere un programma MyPhone, una iPhone Case Potete vincere anche dei coupon per dei prodotti di MyPhone La possibilità anche di comprare dei prodotti, dei software MyPhone Che ho già recensito tutte e due sul mio canale Quindi andate a vedere i video a 9€ invece che a 60-50€ La possibilità di comprare un prodotto iMyPhone Condividendo il sito di iMyPhone su uno di questi social E di riceverne 7 in omaggio E ovviamente questi sono i prodotti che potrete ricevere in omaggio Quindi ragazzi direi che per questo video è tutto Io vi invito a mettere like, a commentare e iscrivervi al canale E ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti